It's not possible, Stevie, we are poor, non abbiamo soldi, io lo spieghi tu, no money, it was just a trial, si provava, si provava, non è andata, basta voi, listen guys, listen to me, I like you very much, being here, in this country, when somebody got a job, he's being paid, right after that, I want my money, I want to be paid, non ci sono, Stevie, questi capelli, si può manco guardarlo, Forse vado al parrucchiere se glieli diamo, diamogli qualcosa, ok, I'll say some money, some money, Stevie, io non c'ho niente, ok, what is right, it's right, quel che è giusto è giusto, dagli qualcosa, quello che c'è in tasca, lo do, un dollaro, un dollaro, top, Stevie, thank you very much, being so kind of you, we like you, ci piaci, you're a nice guy, go and cut your hair, what the fuck is this, two dollars, what can I do with two dollars, oh, 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 No, 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 no Pronto? Ah, signor Tori, un attimo, la metto in via voce. Pronto? Dementi, state urlando troppo. Ci dispiace, signor Tori, abbiamo avuto un problema con... E oltre a disturbare i miei clienti, state disturbando anche me, che stavo facendo la cosa che più mi piace. Macellare le carni. E se non volete che unisca anche le vostre di carni, moderate i Toni. Sì, sì, ecco. Shut up. It's your grandpa. No, no. It's the owner, proprietario, the owner of the restaurant. It's one of the Sopranos. Tony's restaurant. Yeah, mafia, mob, mob guy. The fuck do I care about this? Don't joke. Who the fuck is Toni? Toni, no, no, don't joke with your life. Anzi, no, ma buttalo sotto, no, Toni, it's a friend of ours, go, go. No, no, no. Go insult him, vai insultarlo, va. Non si può proprio fare. Questo è Salvatore, questo. Salvatore. Oh, Salvatore, meno male. Ciao, bello. Senti, glielo spieghi a te a questo po'. Vuole prendere il posto tuo, questo. Ha visto che eravamo due giorni senza cameraman, vuole fare lui l'operatore. È arrivato qua e urla e dice, lo fa. Chi cacchio è, Salvatore? Come ti chiami? What? Why? Why, vieni qua. Why? Why, vieni qua. No, no, si chiama Why, Salvatore. Si chiama, ti dice Why nel senso cosa. Come ti chiami? Stevie. Stevie, vieni qua. A parte questa gravatta ti sta malissimo. Ma poi che cosa vuoi? Oddio, sono sei mesi e lavoro per questo e non mi hanno dato manco una lira. Arrivi tu, fresco, fresco. De caramella. Vendicentese, vai, basta comprare la caramella, vai. Buy the caramella, vai. Why, who are you? He's the cameraman. The real one, our cameraman. What is your name? Non lo capisco, io mi stai insultando. Salvatore. Salvatore. No, Salvatore. Sully. Rishi, Dolly and Sully. Oh, porca miseria, te ne vieni qua. Oh, porca miseria. Pronto? Sì, vabbè, sino un attimo, signor Tone. De onda, de mente, si è di onda. What do you think? What do you think? Guarda, ole. Sì, vabbè, sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Siamo stati uniti, io non ho parole, ma stimi che soffre di allopecia alla fine, coraccio. Guarda che non ci devi avergonzare, se non hai i capelli. Non devi essere piccolo, se sei bologo, se non hai i capelli, 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 se non hai i capelli. Se non hai i capelli, non c'è problema, dai. Solo un attimo, poi vai a prenderla la telecamera. Non ho mai stato così humilato nella mia vita, sto qui fino a che mi paghi. Ok, stai qui. Sta qui. Sì, vai a prenderla la telecamera, preghiamoci. Salvatore, torniamo ai buone vecchie maniere di un tempo. Eh, non è che si può fare una trasmissione così. Ben trovati, buon pomeriggio, siamo Stati Uniti, puntata scoppiettante in diretta con voi Pierpaolo, Riccardo, Stivi, Salvatore, Sio Antoni. Ci sono 600 persone oggi in studio, il tutto esaurito, posto in piedi, 3408901822 per i vostri numeri e per i vostri sms, questo è il numero per i vostri sms. Tutta la vita davanti, noi parliamo in terza parte, quindi vogliamo sapere qual è, da voi, il vostro preferito Fili Limit. Fili da lato, ma rigolato. Vogliamo vedere sangue a Frank, eh, Frank scusa. Ma è una trasmissione splatter. Salvo, evviva, Ginger, salvo, vieni a salutare i tuoi fan che sono veramente... Salvo, sei tornato! Leo Mendez, sei un grande, L92! C'hanno riempito di sms, guarda. L'imbostore, la, mi stavate... No, noi non stavamo facendo niente, si è imposto con... Non lo potete avere un camera con i capelli normali? No, perché sono tutti e due calvi e vanno dallo stesso negozio di parrucche. Salvo, c'ha un capello, sembra Wolverine, porca miseria. Ma non è una parrucca. No, non è una parrucca. Vedi, magari avessi i capelli, salvo. Non è una parrucca. Va bene. Allora, questo è il soldaggio, eh, mi raccomando. Dice la vostra su Virzi. Questo è un regista che a noi piace tanto, un regista toscano, dotato di grandissimo talento, capace di fotografare molto bene, oltre a fare film molto belli, fotografare molto bene... E credo che sia l'ultimo, l'unico, che riesce a fare commedia all'italiana come i grandi maestri di un tempo. Però con un fondo autoriale, con... Ecco, questo film parla di precariato, mi sembra che, no, casca veramente... Ma vorrei dire come i grandi maestri di un tempo. Come i grandi maestri di un tempo. Forse non l'ho vista in tempo. Come i grandi maestri di un tempo. Intanto, invece, che partiamo? No, partiamo con una cosa... Senti, Pierpaolo, io per una volta ce l'ho fatta. Ah, che fa? Ce l'ho fatto, ho fatto un servizio. Servizio? Sì, ho fatto un servizio. Perché c'era questo film nuovo, insomma, la regia di Buscemi, c'è Buscemi e Steve Buscemi, che gli ho detto, vado, faccio servizio, impegno. Ma non mi hai detto niente. Sono cresciuto, sono diventato ometto, Pierpaolo. Sì, hai fatto un montaggio. E ho fatto un montaggio, ho fatto tutto io... E ce l'abbiamo? Possiamo vedere? Su Steve Buscemi? Sì, prima di parlare del film. Interview. Interview. Miriamo un po'. Sai che sia una...